buongiorno ragazzi e benvenuti nel mio canale oggi andremo a fare un video su svuota la spesa penni iniziamo allora l'insalata che l'ho pagata 99 centesimi i funghi già fettati pagati 1 euro e 59 ciobar 1 euro e 79 gombro al naturale 1 euro e 89 panna da montare 99 centesimi il mascarpone 1 euro e 19 il risotto alla marinara 89 centesimi pasta di vella 45 centesimi la pasta sfoglia 79 centesimi 10 uova medie 1 euro e 59 uova fresche sempre 10 1 euro e 69 centesimi questa è tutta la mia spesa penni spero che questo video vi sia piaciuto io vi auguro a tutti una buona giornata e noi ci risentiamo al prossimo video ciao a tutti a presto